Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna, si stanno preparando alla via i partecipanti alla prima corsa, una prova gentleman per cavalli di 5-6 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera. In 10 al via l'1 Donatello, al 2 Delicious Wind, 3 Delice DC, 4 Daphne di Poggio, 5 Caramello Alan, 6 Demetra JVS, in seconda fila 8 Darwin Caff, 9 Califano, 10 Damalor del Sile, 11 Citrosodina Oil. Favorita Daphne di Poggio nei confronti di Delicious Wind, sono loro le due più attese, la macchina prende velocità e si prepara al lancio. In un metro, Daphne di Poggio al comando, spinge letteralmente la macchina e si porta a condurre nei confronti di Delicious Wind, cerca a posto Demetra JVS, però per il momento non prova. In corda c'è Donatello, che non riesce a serrar sotto e così si sistema in terza posizione Demetra JVS. In quinta c'è Delice DC, che precede Damalor del Sile, di Darwin Caff, e quindi alla retroguardia Citrosodina Oil. 14 e mezzo il lancio, con Daphne di Poggio che ora gradua il ritmo, preso agilmente la testa Daniele Orsini, ora si può permettere il ritmo che vuole, 34 per i primi 400 metri di corsa, muove Delice DC sul rallentamento della testa, si porta in scia Damalor del Sile che va a fare la seconda pariglia, rimane per il momento seconda in corda Delicious Wind, dopo 600 metri di corsa, passati in 47 e 1. Passaggio davanti alle tribune, con in vantaggio Daphne di Poggio nei confronti di Delicious Wind, all'esterno Delice DC, in corda Demetra JVS pariglia per Damalor del Sile che precede Darwin Caff, 800 metri in 1, 2 e 3. Su piede dell'1 e 18, scarso Daphne di Poggio che sta facendo davvero i propri comodi al comando. Delice DC si è scoperta ma per il momento non riesce ad andare sulla testa della corsa, è così, mille di gara in 1, 17, 8, continua con frazioni costanti, ora Delice DC non tiene più il contatto con i primi di fuori, Daphne di Poggio continua in controllo, Delicious Wind sempre nella sua scia, poi Demetra JVS, ancora Damalor del Sile in pariglia, precedere Donatello in corda, a retai line 14,7, Daphne di Poggio che in progressione sta allungando, Delicious Wind che per il momento non ha la forza di andare all'esterno, quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, con Daphne di Poggio in controllo nei confronti di Delicious Wind, Demetra JVS, Daphne di Poggio vince davvero a far prova, Daphne di Poggio vince come vuole nei confronti di Delice DC e Delicious Wind che finiscono in linea, ha sbagliato in zona proibita Demetra JVS, 28,7 ad arrivare, uno 15,3 raguaglio, tutto facile per Daphne di Poggio, Daniele Orsini, training di Massimo Barbini, colori della scuderia Mistero, facile assunto per la figlia di Nunzio e Zagara di Poggio. Grazie 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 Grazie